segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te abbiamo visto con il caso catar che c'erano esponenti del vostro gruppo che si presume fossero al libro paga di marocco e catar lei ce la mette la mano sul fuoco che colleghi europei non italiani non siano al libro paga della cina per questa delirante normativa perché dobbiamo sentire domenico iannacone giorgia meloni ha governato e quando governava io andava alle superiori si informi punto numero 2 ha ragione il centro sinistra ha fatto tanti errori ed è uno dei motivi per cui alla guida del partito democratico c'è l'islam con una nuova piattaforma domenico iannacone non è vero quello che è stato raccontato l'italia non ha toccato palla e l'italia ha fatto una sonora figura da barbina nei confronti dell'europa perché siamo rimasti isolati la germania si è fatta la sua partita e ha vinto quella quella è arrivata a quella soluzione l'italia si è persino astenuta con romania polonia e bulgaria cioè non siamo nemmeno a livello della questione tecnica perdonatemi abbassiamo lo studio la questione tecnica ma